Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Insomma, dobbiamo parlare della situazione veramente molto molto importante perché faccio una piccola premessa. Nel momento in cui io sto girando, e questa è una cosa importante da dire, siamo nel bel mezzo del caso per quanto riguarda Pogba Doping. Quindi premessa che questo video viene girato in questo momento. E perché te lo dico? Perché da qui bisognerà andare a fare delle analisi veramente molto importanti. Perché? Io ho sempre detto una cosa all'interno dei miei video, quando si è parlato di centrocampo, si è parlato di due eccetera eccetera, la Juve ha un centrocampo oggettivamente debole. Ok? Molti parlano di centrocampo-Juve come se fosse una cosa straordinaria, come se la Juve fosse un centrocampo fra i migliori d'Europa. In realtà il centrocampo della Juve è molto debole. E noi attualmente possiamo fare affidamento su un certo tipo di giocatori totalmente solo su due elementi, visto che gli altri sono delle incognite. Con Pogba, che nel momento in cui giro non è ancora chiara la situazione, perché non è capito se sta bene, se sta male, se resta, se va via, eccetera eccetera, la situazione si complica ancora di più. Perché qualora tu volessi in quel momento schierare Pogba, tu avresti potuto schierarlo, mentre ora si rischia un'enorme problematica e quindi dobbiamo comunque cercare di capire qual è la situazione. Ma fra poco vi spiego letteralmente tutto. Ovviamente ragazzi, prima di iniziare, prima di iniziare, cosa dovete fare? Qua sotto, basta andare qua sotto, ragazzi. Anzi, prima ancora di iniziare questa cosa, vi dico già questo è veramente molto importante. Andate qua sotto, cliccate su iscriviti, cliccate su like, cliccate sulla solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, se non attivate le notifiche non vi arrivano le notifiche. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, parto da un presupposto molto semplice. Il nostro centrocampo è un centrocampo per me, per me, totalmente inadeguato per una squadra come la Juve. Si tratta di non voler apprezzare le cose, come qualcuno dice. Si tratta di dire le cose oggettivamente come stanno. Pogba è un giocatore che per un anno e mezzo tu non hai, voglio dire, ci sono state talmente tante cose su Pogba, talmente tante polemiche su Pogba che tu comunque l'hai usato poco. Gli unici giocatori che a livello di prestazioni a centrocampo ti danno qualcosa in più sono Nicolò e Adrienne. Quindi c'è la possibilità di andare su questi due. Ogni tanto qualcuno del centrocampo spunta fuori con una buona prestazione, ma in linea generale continuiamo ad avere problemi in quel reparto. Ok? Perché se io tolgo i due, io non sto dicendo letteralmente nulla, ma facciamo una cosa, la vita sempre di un centrocampo, la vita sempre di un reparto, la vita sempre di una serie di giocatori, si basa sulla tecnica, va bene? Tu devi guardare la tecnica. Ora, se togli loro, i loro tre, quindi sia i due che ti ho nominato, più Pogba che è un oggetto non identico, non si capisce che fine farà, ci siamo resi conto che siamo rimasti con Locatelli, che ha la personalità di uno zucchino, Miretti, che è un ragazzo di talento ma che deve andare in prestito per crescere, Nicolussi, che ha 24 anni e ha 30 presenze in Serie A perché ha avuto un infortunio grave che lo ha mantenuto fuori. Quindi purtroppo è un infortunio che Nicolussi lo ha limitato. Ok, poi abbiamo chi altro? McKennie? McKennie non è mai stato un centrocampista da Juve, non lo è adesso. Ci rendiamo conto quanto siamo messi male a centrocampo? Allora, quando io durante l'estate, perché voi siete testimoni di tutto ciò, io dicevo all'interno dei miei video, ragazzi c'è un problema a centrocampo, state attenti perché nel momento in cui uscirà uno a centrocampo per un motivo vario che non sarà possibile usarlo, vi renderete conto di quanto noi siamo deboli a centrocampo rispetto all'Inter, al Milan e ad altre squadre che hanno centrocampi con i controattributi. Allora, io vi dico una cosa, la Juve doveva investire almeno in un nome importante a centrocampo perché lo vedete qual è la situazione adesso? La situazione è che tu ti trovi a giocare con Locatelli e Miretti, con i due che ti ho nominato, più McKennie e Nicolussi. Questo è un centrocampo da Juve? Voi ritenete questo centrocampo un centrocampo da Juve? Ritenete questo reparto un reparto da scudetto? Per me non è da scudetto. È da scudetto questo reparto, ma uno non è per... Allora, a me sapete cosa dà fastidio, posso essere sincero, tanto tra me e voi c'è stato un rapporto talmente diretto che devo essere sincero, non vi posso dir bugie. Va bene? A me sapete cosa mi dà fastidio? Veramente. Il voler mentire a tutti i costi per mantenere le opinioni ridicole di qualcuno. Capito? Cioè io so un'opinione per dire, cioè io penso che quello sia scarso per dire, no? E comunque nego l'evidenza pure se quello gioca bene. Questo mi dà fastidio. Cioè il voler portare avanti, cioè il voler andare. Io ripeto, non dico che bisogna pensarla tutto allo stesso modo, perché è bene che ci siano correnti di pensiero diverse. Ma di fronte all'evidenza, vogliamo cambiare un po' modo di pensare? Qui c'è gente che ritiene che il centrocampo della Juve sia all'altezza di quello dell'Inter e del Milan. Cioè il Milan a centrocampo, venduto tonali, ha comprato giocatori di livello. Di livello! Giovani e di talento. L'Inter a centrocampo, ha comprato giocatori. L'Inter gioca a centrocampo a tre, perché gioca con lo stesso modulo che usi. Quindi gioca con il centrocampo a cinque, che in realtà è un centrocampo a tre. C'ha tre titolari e in altre tre titolari ce li ha in panchina. Perché è così che si costruiscono le squadre. Marotta, tanto criticato qui, che ha fatto tanti errori Marotta. Marotta, almeno la squadra, te la sapeva costruire bene. Mai c'è stato negli anni di Marotta buchi di rosa enormi. Possiamo dire che da quando se n'è andato Marotta non ci abbiamo capito più niente a livello di mercato? Oppure è un reato, dirlo? Diciamoci la verità, ragazzi. Bisogni esso onesti. E se Juventino vuol dire andare sempre a DC alle cose? Allora, come lo vinci lo scudetto con un centrocampo del genere? Se ne fa male uno è finita. È finita. Se se ne fa male... Se se fa male, rabbio... Se mettiamo cosa si fa male, è Adrienne. Va bene? Con chi giochi? Con McKennie, che non tiene una palla, manca a pagamento. O con Miretti, che sbaglia 20 passaggi a partita. O con Nicolussi, che non sa manco d'ostato, perché Nicolussi è appena arrivato. Locatelli. Ah no, perché Locatelli gioca fuori ruolo. Cavolate, Locatelli il ruolo suo è quello. Lo faceva già con De Zerbi al Sassuolo. E che Locatelli non ha il carattere per star qua. C'ha poco carattere, quindi devi lavorare sulla personalità. Ora, se Paul va fuori, perché ci sono problemi col doping, o se non va fuori, o se ha problemi fisici, non so cosa farà Paul in questo momento. Non so quale sarà la scelta. Io a chi mi posso affidare come leader del centrocampo? Cioè, ragà, ma vi rendete conto che noi stiamo a dir che sta squadra e da scudetto non c'è sta un centrocampista che giocherebbe Ritolare a Inter e Milan? Cioè, assolutamente. La Juve doveva investire su un centrocampista. La Juve la deve finire di nascondersi dietro il fatto, eh, ma tanto ci abbiamo i giovani. Perché coi giovani è un conto e coi giocatori affermati è un altro. La Juve la deve finire di nascondersi dietro i giovani. No, non si è fatto mercato perché tanto c'è i giovani. Perché Miretta e Nicolussi andavano mandati in pressio tutti e due perché non sono pronti per stare qua. McKennie è uno che non ci doveva. Proprio sta qua doveva essere venduto e coi soldi prende un altro. Locatelli è al terzo anno di Juve e io non riesco a capire Locatelli qua cosa faccia, sinceramente. Siamo un reparto, abbiamo un reparto, c'è un discorso da fare chiaro e preciso. E la situazione di Pogba continua a renderlo noto. Cioè, come fai a dire questo centrocampo è all'altezza? Come fai a giudicare un centrocampo del genere all'altezza? Solo se giochi ai videogiovi puoi giudicare l'altezza. Perché chi vede calcio vero non lo può giudicare all'altezza un centrocampo del genere. Perché se uno giudica all'altezza di uno scudetto, di battersela con Inter e Milan, un centrocampo del genere, di calcio non capisce nulla. nulla. E non è una mia opinione. So i fatti. Perché Nicolussi? Perché Miretti? Perché McCennie? I primi tre che mi sono venuti in mente. Sono alternative. Vero, sono alternative. Ma gli altri chi c'hanno come alternative, però? Non hanno ragazzi giovani che non hanno 20 presenze in Serie A che non sanno manco do sta la casa. Questa è la verità. Siamo pieni di giocatori o giovani che purtroppo hanno i loro problemi e devono crescere e devono crescere e quindi hanno bisogno di tempo e non è colpa loro o di gente che non è da Juve. Ancora con McCennie. Ancora con McCennie. Ancora con McCennie. Stiamo messi noi. È stato qua quattro anni, tre anni, McCennie. Ne è cambiato niente. Abbiamo andato in presidio, è ritornato. Perché McCennie, perché McCennie giocherebbe. Ho sentito di McCennie perché se ci avesse uno è perché copirlo. Ma che ha fatto McCennie copirlo? Ma perdonatemi, ha fatto una buona stagione ma un centrocampista è un altro discorso. I centrocampisti da Juve sono altri. Ma il centrocampo della Juve da Scudetto e degli scudetti precedenti ma era questo? Era questo il centrocampo della Juve da Scudetto degli altri anni? Perdonatemi. C'era questo qui, era strutturato in questo modo. C'erano giocatori veri con l'esperienza addosso, gente che ti trascinava la squadra, no? Gente è così, ragazzini di 20 anni, scarti di altre squadre, McCennie è uno scarto di un'altra squadra. Locatelli, pagato 40 milioni alla terza stagione di Juve, sta in mezzo al campo e ancora non mi fanno passare un passaggio in verticale. Questo è. Questo è. E stiamo qua ancora a dire no perché la Juve se non vince lo Scudetto ha fallito, lo Scudetto. Mi devi prendere due centrocampisti con gli attributi per vincere lo Scudetto. Non mi devi campare su Nicolussi, capisci, su Miretti e su McCennie come prime alternative perché non ce la fai. Non ce la fai. Lo vuoi capire che non ce la fai. Non si capisce mai. Questa cosa non si capisce mai. Io parlo aus, parlo una lingua, una lingua sconosciuta a tutti io. Non si capisce mai sta cosa. Si può reggere una cosa del genere? si può tollerare una cosa del genere? Si può tollerare una cosa del genere, ragazzi, nel 2020? Ancora qua stiamo a dire sempre le stesse cose. No, perché quello è bravo, quello tra 3-4 anni. Uno altro giorno mi ha scritto, un ragazzo che mi segue, ha scritto, Matt, secondo me sbagli a dire queste cose perché questi fra 3-4 anni saranno tutti forti. Ok, nel frattempo che facciamo? Ci guardiamo in faccia. 3-4 anni? Devo aspettare 3-4 anni per vincere lo scudetto. Perché devo aspettare X, Y, Z che si riprende, quello che cresce e quell'altro che ritorna in forma. Ragazzi, qua stiamo alla... Qua bisogna cominciare a vincere in maniera decente. Qua bisogna cominciare a alzare la testa e a dire le cose come stanno, nascondersi dietro i ragazzini, dietro l'allenatore, dietro il presidente. Bisogna finirla, bisogna dire le cose come stanno. La rosa della Juventus a livello di difesa e di attacco può essere pure tollerabile. Perché la difesa della Juve prende un DC che gioca col piede sinistro al posto di quello scandalo che abbiamo a sinistra e un altro discorso. L'attacco, ti voglio dire pure che va bene, anche se manca una seconda punta, però va bene pure l'attacco. Ma il centrocampo, non mi dite che il centrocampo è competitivo perché non è competitivo. Ma non può essere competitivo il centrocampo. Cioè, non può essere competitivo il centrocampo del genere. Senza Pogba, ancora peggio. Ancora peggio, perché senza Pogba, tu vai a vedere la lista dei centrocampi. Tu vai a vedere la lista e tu te rendi il centrocampo da sesto posto abbiamo noi. Da sesto posto. Manco da sei, ma da otto. ma c'è gente che dice che sta gente è da scudetto. Ragà, voi avete bevuto, ragà, non ci stiamo proprio. Non ci siamo, ragazzi. Non ci siamo. È inutile che fa. Quando arriveranno i centrocampisti veri, tornate qua. Tornate qua e dite se c'avevo ragione oppure, perché quando prenderemo centrocampisti veri, veri centrocampisti, poi tornerete e mi direte, eh, c'avevi ragione quando dicevi che questo centrocampo faceva piede. è perché così è. È sempre così. È sempre così. Non si vede mai all'inizio, si vede durante la stagione. Voglio vedere durante la stagione quando si fanno male i centrocampisti chi gioca. Fa una partita buona a Miretti e c'è gente che mi scrive eh, vedi che Miretti ha fatto una partita buona. Eh, va bene. Deve fare 40 di fila per partite buone. 40. No, una. 40. Boh, parlo a, parlo a un'altra di, non lo so. Fatemi sapere voi. Fatemi, cioè non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate.